Ultime notizie. Uno scenario raccapricciante con numerose vittime. Gli abitanti del posto hanno sentito esplodere centinaia di colpi d'arma da fuoco. Quando la polizia di Albuquerque è giunta sul luogo del crimine, ha rinvenuto i cadaveri di nove uomini. La sparatoria si è protratta a lungo. Secondo quanto riferito, la portata della carneficina è sconvolgente. Si sospetta che per la mattanza sia stata usata un'arma con controllo remoto. Gli investigatori sono sulle tracce di un sospettato che è riuscito a fuggire. Chiunque abbia notizie di questo massacro, chiami la polizia immediatamente.